Il Presidente della Repubblica c'è stato un rapporto corretto, non è il mio Presidente della Repubblica, se io mi devo ispirare a un Presidente della Repubblica penso a Pertini per la carica umana, per la simpatia, per il dinamismo politico, per la sua tradizione politica, è un fatto legittimo, quindi non c'è né in giunta c'è una tensione, perché anche nei confronti di Napolitano è legittimo ed è bello che ci siano opinioni diverse. Io gli ho augurato buon lavoro come senatore a vita, io credo è il messaggio più bello che possa dare un sindaco a un Presidente della Repubblica uscente, mi si chiede un giudizio che dovevo esprimere in modo intellettualmente disonesto il pensiero, non sono così, chi mi conosce Luigi Magisti è una persona onesta nel pensiero e nelle azioni, quindi ho detto lei lo rimpiangerà a Napolitano, ho detto no, non lo rimpiangerò da Presidente della Repubblica perché non l'ho considerato un buon Presidente della Repubblica, non è né un'offesa né una mancanza di rispetto, anzi io ho augurato buon lavoro da senatore a vita, ho detto anche che ho avuto con lui un buon rapporto istituzionale, nonostante tante cose anche gravi che non ho condiviso, anche serie e importanti, ne potrei citare diverse, alcune le ho citate, anche nella vicenda della trattativa Stato-Mafia, nella vicenda come Presidente del CSM in alcune circostanze, incarichi che ha dato come Presidente della Repubblica, insomma siamo in un Paese democratico, si può esprimere, bisogna accodare tutti qua, una cosa è il saluto, il saluto l'ho dato, l'ho dato anche adesso a tutte le televisioni qui riunite, alla stampa, un saluto di buon fine, diciamo 7 anni più due, anche questo non è una cosa che accade sempre, quindi è una persona che ha fatto il suo, adesso farà il senatore a vita, ho detto quello che penso e farò sempre così nella mia vita.